Salve signora! Perché è qui? Ah scusi signore! Perché è qui in ospedale? E co sai? Adesso la aiuto io mi segua. Deve prendere queste medicine. Anche se sono un tantino fredde. Vabbè comunque adesso devi pagare. In che senso? Non può andare senza pagare. Ah si? E come farai? Oddio cosa sta succedendo? Sei in arresto testa di cazzo.